Sì, è un'operazione che da questo punto di vista è un segnale da parte delle forze di polizia e da parte della magistratura su un territorio sul quale, ripeto, l'attenzione resta molto alta. Abbiamo cercato, con questa operazione è venuta fuori, abbiamo cercato di mettere in luce un'organizzazione che ha tutti i paradigmi dell'associazione mafiosa, una associazione che ha controllato il territorio per tanti anni, dedita principalmente a distorsioni, ai danni di imprenditori, titolari di commesse pubbliche e al traffico di sostanze stupecenti anche pesanti del tipo cocaina. È una associazione che ha imposto con la pressione e con le minacce il suo dominio sul territorio diventando il punto di riferimento per ogni problema che in quel territorio sorgeva e che ha operato in materia indisturbata per tanti anni sino a questa operazione. Certamente il lavoro sul territorio non termina qui. Come ho detto prima, l'attenzione da parte della Procura di Messina resta certamente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.